come ti chiami pietro fulvio domenico quanti anni hai undici nove e mezzo sette otto che vuoi fare da grande il pompiere il calciatore il pazzo di cera il poliziotto il pizzaiolo perché perché voglio costruire la casa dei miei sogni perché mi piace inguaggiare salvo le persone e lei è martina che ti piace di lei gli occhi mi piacciono le sue scarpe le sue mani le occhi le bambini sensibilità sulle capelli tutto davvero la bambina si canse lei e ora falle una carezza falle una boccaccia e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no 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 e perché no ok le femmine non si picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare perché è una ragazza perché sono controlla la violenza sì se anche le donne non si chiudevano toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un mazzo di fiori e perché sono dalle un bacino e la posso dare sulla bocca o sulla guancia? grazie 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 grazie